Grande partecipazione a Montorio Albomano per la tradizionale rappresentazione del Carnevale Morto, che ha chiuso ieri seri festeggiamenti iniziati domenica. Le irriverrenti esegue del Carnevale sono iniziate con la veglia del Chiostro degli Zoccolanti, dove è stata allestita la camera ardente in presenza dell'inconsolabile vedova. Da qui e poi è partito il corteo funevo e tutto fuorché triste, accompagnato per le vie del centro storico della banda cittadina alternando marce funeve con brani all'erri. Si tratta di un'antica tradizione tutta del posto, nata negli anni venti ad opera di alcuni insofferenti al regime fascista e che è durata nel tempo diventando sempre più conosciuta e apprezzata anche a livello nazionale. Come tutti gli anni noi partiamo con la veglia del morto alle ore venti, quest'anno in una cornice splendida, stupenda della nostra Montorio, che è quella del Chiostro degli Zoccolanti, che per la prima volta ospita il Carnevale Morto. Abbiamo voluto cambiare anche per dare una visione diversa anche della nostra Montorio, riaprire degli spazi che sono visibili solo per pochi e in pochi momenti dell'anno. Noi siamo contenti di questo, soddisfatti e anche orgogliosi. Certo, diciamo che stasera chiudiamo col botto. Abbiamo un grande comico che viene dal Bagaglino, quindi ha 45 anni di esperienza teatrale comica, scoperto da Pingitore, quindi insomma un personaggio famosissimo. Ci avviciniamo, come ho già detto in altre interviste, al centenario di questa manifestazione, il Carnevale Morto appunto di Montorio a Vomano. Cerchiamo di rendere piacevole una serata per i montoriesi e non perché il territorio ha avuto delle batoste, ci hanno un po' martellato e quindi un sorriso ce lo meritiamo, insomma. Bello, perché no, no, beh io dicevo prima che nel mio paese si fa la stessa cosa, insomma, bruciamo, capito, questo palacchio lo chiamiamo noi, però così è una cosa originale, non l'avevo mai vista io. Di Carnevale ne ho fatti tanti, sono Carnevale io. Faccio quello che so fare, quello che faccio sempre, quello che magari ho fatto pure qua qualche anno fa, perché mi piace sentire la gente che dice già l'hai fatta, che te posso fare? Pure ieri Amadeus mi ha detto la stessa cosa.